musica Grazie a tutti Una bellissima manifestazione Già da ieri si è visto dalla direzione gara C'erano tutti i presupposti per ottenere un grandissimo risultato Bellissima questa cornice Perfetto Grazie al vice sindaco Rosario a te l'onore Grazie direttamente alla vostra bravura Gara del pilota 21 Te lo saresti aspettato? Rosario stamattina mi ha detto andiamo a divertirci Così mi ha detto Sinceramente no Però ci abbiamo provato Ci abbiamo creduto fino alla fine E ci siamo riusciti Ecco ragazzi Eccolo qua Giovanissimo Per la soddisfazione di papà e mamma Del secondo classificato Alessio Profeta L'applauso Ma secondo me c'è dalla prima prova Tu l'hai conosciuto bene Sì però è una macchina totalmente diversa Macchina fantastica Tim mi ha seguito al meglio di me Eccolo Grazie a tutti.